Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In primo piano c'è il Consiglio regionale straordinario sulla sanità che si è tenuto oggi, un consiglio all'interno del quale è stato votato il documento del centro-sinistra, il che ha scatenato la reazione della minoranza del centro-destra, che ha così attaccato l'intervento in aula dell'assessore alla sanità Silvio Paolucci. Il servizio. Evoluzione dei livelli essenziali di assistenza, maggiori investimenti nelle risorse umane, rivisitazione dei meccanismi di finanziamento per le strutture pubbliche, studio di fattibilità per due ospedali di secondo livello, investimenti nella sanità territoriale. Sono questi i contenuti del documento presentato dal centro-sinistra e votato all'interno del Consiglio straordinario sulla sanità tenutosi oggi all'Aquila, che prevede un impegno del commissario ad acta e presidente della regione, Luciano D'Alfonso. Un altro documento presentato dalle opposizioni è stato invece bocciato dall'assise regionale. Le minoranze chiedevano ad Alfonso di relazionare in aula sul recepimento del decreto Lorenzin e di predisporre un piano con degli obiettivi da raggiungere nel medio periodo. Anche questa volta le opposizioni sono finite nel sacco del loro stesso gioco. La maggioranza di centro-sinistra è stata compatta nel sostenere ciò che abbiamo garantito agli abruzzesi durante la campagna elettorale, ovvero la riforma della sanità. Così ha commentato il voto in aula il consigliere del Partito Democratico, Camillo D'Alessandro, di provvedimento fotocopia di quello del centro-destra parlato invece Mauro Febbo di Forza Italia, che ha attaccato l'assessore alla sanità Silvio Paolucci. Secondo Febbo il centro-sinistra esce in modo pessimo da un consiglio straordinario, nel corso del quale ha mostrato di non avere argomenti. All'attacco dell'assessore alla sanità anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle Gianluca Ranieri, che ha bollato l'intervento di Paolucci come 50 minuti di assoluto nulla. Secondo Ranieri in aula si è assistito ad un discorso sterile, tanto da essere irrispettoso verso tutti quei cittadini, che dal governo regionale attendono risposte per capire dove, come e quando curarsi. Una turista di 80 anni di Seren del Grappa, in provincia di Belluno, Antonietta Lovat, è deceduta stamani mentre con la muta si stava immergendo in acqua nel tratto di costa antistante la spiaggia di Villa Rosa di Martinsicuro, all'altezza dello stabilimento Posto 9. La turista è stata vista in difficoltà dal marito che ha dato l'allarme. Il 118 ha constatato il decesso per arresto cardiocircolatorio dovuto ad improvviso malore. Sul posto anche i carabinieri del locale stazione. E ora la cronaca giudiziaria è stato affidato oggi alla professoressa Emanuela Turillazzi, direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Foggia, l'incarico dal GUP del Tribunale di Pescara, Maria Carla Sacco, di accertare se ci sono fattori preesistenti, concomitanti o sopravvenuti che hanno inciso sulla morte del pensionato dispoltore Donato Pangiarella, 74 anni ex dirigente di una squadra di calcio trovato senza vita il 6 settembre del 2014 nell'ascensore di un palazzo in via Cerrano a Montesilvano. Nella vicenda è imputata una donna nigeriera di 34 anni, Eppi Ayekbeni, che ha chiesto e ottenuto di essere giudicata con il rito abbreviato. Nello specifico la consulente dovrà accertare, ad esempio, se lo sforzo a cui si sarebbe sottoposto l'uomo portando le bottiglie d'acqua in casa acquistate dalla donna in un supermercato e l'eccitazione sessuale suscitata dalla presenza dell'imputata e la prospettiva di un eventuale contatto fisico con la donna possono aver influito sul decesso del pensionato. La perizia sarà illustrata e discussa nel corso della prossima udienza preliminare fissata per il prossimo 23 febbraio. L'imputata, difesa dall'avvocato Simone Rosario Matraxia, è accusata di omicidio preterintenzionale. Andiamo avanti con il Tg, andiamo all'Aquila dove il comando provinciale della Guardia di Finanza ha eseguito un'operazione in negozi cinesi di Sulmona. Sono mille profumi falsi d'autore, sequestrati dal comando provinciale della Guardia di Finanza dell'Aquila nei negozi cinesi della Valle Peligna. La contraffazione di capi di abbigliamento è un fenomeno piuttosto noto al pubblico dei consumatori. Meno conosciuta è invece la pratica di riprodurre e di mettere sul mercato profumi contraffatti. È quanto hanno scoperto i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona nel corso di una serie di servizi mirati a colpire l'illecito commercio di prodotti falsi. A seguito di un'attenta attività info-investigativa condotta nell'ambito dei servizi a tutela dell'economia, sono state eseguite una serie di perquisizioni che si sono concluse con il sequestro di mille profumi falsi d'autore per un valore di circa 5.000 euro e la denuncia di due responsabili. I profumi sono delle marche più richieste sul mercato, da Acqua di Gio, di Armani a Paco Rabanne, a Chanel numero 5, ma anche Biagiotti, Versace, Obsession di Calvin Klein e tanti altri ancora. Le perquisizioni e di sequestri sono avvenuti in diversi negozi del comune di Sulmona, tutti gestiti da soggetti di nazionalità cinese. Benché sia chiaro che non sono originali, recenti sentenze della Cassazione equiparano questi prodotti a quelli taroccati. La contraffazione del commercio di prodotti insicuri danneggiano il mercato, sottraggono opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole mettendo tra l'altro in pericolo la salute dei consumatori. La vicenda è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Sulmona, essendo state ravvisate l'ipotesi di reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Aveva nascosto mezzo chilo di ascisci in un doppio fondo di un armadio nella sua abitazione di Tagliacozzo, ma i carabinieri hanno scoperto la droga e lo hanno arrestato. Cristiano Casale, 45 anni del posto, era stato fermato alla guida della sua auto dai militari della locale stazione per un controllo. I militari, che già erano sulle tracce dell'uomo, hanno perquisito l'abitacolo trovandosi così dosi di stupefacente che ha permesso loro di procedere alla perquisizione nella sua abitazione dove l'uomo aveva nascosto mezzo chilo di ascisci in un armadio. L'arresto del 45enne arriva in seguito all'operazione Hammer, condotta sempre dai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo. È finito in ospedale dopo essere stato investito da una donna sul tratto di strada che collega Pescina a San Benedetto dei Marsi, in provincia dell'Aquila. Un uomo di origine nordafricana è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni, ma non rischia la vita. Il ciclista aveva appena finito di lavorare quando, a ora di pranzo, a bordo della sua bicicletta, è stato travolto dalla donna alla guida di un'auto e che si è fermata soccorrendolo e avvisando i carabinieri di Pescina che hanno eseguito gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Teramo. Ad un anno dal suo insediamento il colonnello Alessandro Primavera lascia la guida provinciale a prendere il suo posto, il colonnello Paolo Balzano, abruzzese, nativo di Castel di Sangro. Come presentare il nuovo comandante e come salutare il comandante Primavera? Ho appena salutato i due ufficiali che si alternano qui al comando provinciale, ho tributato loro tutta la nostra riconoscenza, due alti profili professionali e quindi ci sarà sicuramente certezza di una continuità di azione del comando in un territorio, in una realtà socio-economica che merita una particolare attenzione. Cercheremo di continuare sullo stesso percorso già tracciato dal mio pregestore e cercando di assicurare sempre più la sicurezza economico-finanziaria nell'ambito della provincia di Teramo. Sono originario della provincia dell'Aquila, Teramo è una città che sono stato solo poche volte, comunque conosco più che altro la zona ritorranea della provincia. Le direttive particolari sono quelle di cercare di prevenire e contrastare ogni forma di evasione, di legalità e di cercare di essere sempre a favore di coloro che operano nell'ambito della legalità. Oggi i livelli di motività sono veramente alti in considerazione non solo delle generose espressioni di apprezzamento che mi sono state rivolte, in particolare dal comandante regionale, ma è una giornata ricca di emozioni perché concludo due periodi, innanzitutto quello periodo di comando qui a Teramo che ho vissuto ritraendo grandi soddisfazioni da quest'anno di attività, ma lascio anche un periodo, una stagione lavorativa molto più lunga che l'intera carriera vissuta in guardia di finanza. Cosa importante da sottolineare in questo anno l'attività di prevenzione? L'attività di prevenzione che è tesa soprattutto a creare un clima di tax compliance, cioè fare in modo che la coscienza etica, civile e anche, soprattutto fiscale, si consolidi sempre di più nella cittadinanza. Quindi è giustissimo, oltre alla repressione, anche alla prevenzione. Ci sono degli importantissimi segnali di ripresa, ci sono degli indicatori macroeconomici che ci fanno ben pensare a una lenta ma costante crescita, anche se non sono ancora molto evidenti e ben consolidati. La Guardia di Finanza, che è un sensore privilegiato in questo senso, deve accompagnare questa crescita con controlli quanto più mirati possibile. Quindi continueremo in questa prospettiva. Convocato dal Vicepresidente della Regione, un tavolo tecnico per individuare una soluzione al nodo della restituzione delle tasse sospese alle imprese dopo il sisma. La partita è complessa, ha spiegato il Vicepresidente Lolli. E' ancora tutta in salita la strada per individuare una soluzione per le imprese chiamate dall'Europa a restituire le tasse sospese dopo il sisma. Una certezza o quasi emersa al termine dell'incontro, convocato con tecnici e parti interessate dal Vicepresidente della Giunta regionale Giovanni Lolli. La partita è in corso ed è complessa, ha spiegato Lolli, riferendosi alla questione se considerare le infranchigia, gli aiuti fino a 500.000 euro. E' bene ribadire, ha aggiunto Lolli nel corso della riunione, che non esiste alcun documento ufficiale che fissa il de minimis a 500.000 euro. Posso dire che siamo sulla buona strada, ma è anche necessario aggiungere che l'Unione Europea, come tutte le istituzioni, parla con gli atti e allo Stato manca un documento ufficiale che indichi come riferimento quella cifra. Sul nodo restituzione aiuti di Stato, che in caso di franchigia a 500.000 euro interesserebbe 26 aziende del criterio sismico, il Vicepresidente ha detto che si sta lavorando su tre tavoli, un'azione diretta dei parlamentari europei, l'attività della Camera di Commercio e un tavolo tecnico presso il Ministero a Roma, al quale la Regione partecipa. In questo senso, infine, ha concluso Lolli, la tendenza raccolta in sede di Unione Europea è quella di considerare nel computo dei danni che dovranno presentare le aziende, anche quelle derivanti da danno economico, mancato guadagno e spese maggiorate a caso del sisma. Protesta questa mattina davanti alla sede della provincia di Pescara, da parte degli studenti dell'alberghiero De Cecco, contro la sede unica che dovrebbe sorgere a Cepagatti. Una delegazione di ragazzi è stata poi ricevuta dall'assessore regionale all'edilizia scolastica, Donato Di Matteo. Protesta questa mattina dinanzi alla provincia di Pescara, degli studenti dell'alberghiero De Cecco. Quali i motivi di questa protesta? Il principale, quello per cui oggi siamo qui a manifestare, è il fatto che la provincia abbia stanziato dei soldi, però senza chiederci a noi se per noi andava bene, ed è stanziato per costruire una nuova struttura a Villareia di Cepagatti, vicino all'attuale agrario di Cepagatti, così da colpare l'alberghiero De Cecco di Pescara con l'agrario di Cepagatti e fare un'unica scuola. Il problema principale qual è? Che noi abbiamo molti ragazzi che si spostano dai paesi limitrofi e per andare a Villareia dovrebbero scendere prima a Pescara, prendere poi un altro pullman da Pescara che li porta a Villareia, perché non c'è un collegamento diretto dai paesetti interni della nostra regione. In più noi abbiamo dei ragazzi anche del convitto, che vengono da fuori regione, questi ragazzi ogni settimana vanno avanti e indietro, andare a Villareia per loro sarebbe un problema non piccolo ma grande. Noi la sede unica la vorremmo a Pescara, perché l'alberghiero è di Pescara, è una scuola di Pescara, è il grande polmone dell'Abruzzo che è a Pescara. Ci hanno fatto tante promesse sui nuovi laboratori, sulla nuova palestra e l'unica promessa che hanno mantenuto è una nuova sede con la fregatura di mandarci a Villareia. Assessore Di Matteo, i ragazzi dell'alberghiero stanno manifestando ma hanno apprezzato molto la disponibilità sua della regione ad intraprendere un percorso condiviso. Vogliono una struttura adeguata, perché per tanti anni sono stati messi in strutture inadeguate, le istituzioni hanno fatto una proposta che loro possono o non possono accettare. Se non l'accetto vuol dire che faremo un altro tipo di intervento. Come progetto di massimo intorno ai 6 milioni e mezzo di intervento sarà un intervento completamente innovativo. Sono state deliberate anche altre ipotesi su altre province per cui gli importi complessivi saranno superiori a quelli delle disponibilità per la regione. Noi manderemo i nostri progetti al Ministero che li inserirà in via prioritaria per le qualità che sono le progettualità che presentiamo, per le qualità che hanno per cui la scelta sarà fatta poi dal Ministero. Il Sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, dopo aver incontrato i ragazzi dell'Istituto De Cecco ha deciso di convocare un Consiglio Comunale straordinario che si svolgerà lunedì 19 ottobre alle ore 9 e in cui avranno voce tutti i soggetti in grado di trovare una soluzione e un'alternativa al trasferimento della scuola a Cepagatti. Nel frattempo, insieme all'assessore Diacovo e ai consiglieri che hanno preso in carico le considerazioni degli studenti il Comune attiverà gli uffici per valutare possibili piene alternativi che consentono alla scuola anche di recuperare la didattica ad oggi in parte bloccata per via dell'impossibilità di utilizzare i laboratori. Ad un anno di attività il Presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino e i consiglieri provinciali delegati tracciano un bilancio e presentano le iniziative di programmazione e pianificazione sulle quali sta lavorando l'ente. A parte il bilancio di questo suo anno, quale saranno le attività e come verranno coordinate nel futuro? Noi stiamo cercando di lavorare veramente sul mantenimento di un'identità di un territorio terramano e sul fatto di evitare la periferizzazione di questo territorio. La sostituzione delle province con enti di area vasta può essere un'opportunità ma può essere se non è presa bene anche la definitiva eliminazione di un territorio però di un'identità di un territorio che prima andava sotto il nome di provincia di Teramo. Noi stiamo lavorando bene da questo punto di vista mettendo insieme i comuni, penso ad esempio all'azione che stiamo svolgendo per lo sviluppo economico, stiamo per presentare alla Regione Abruzzo nei prossimi giorni, la domanda per il riconoscimento di area di crisi complessa per la Val Vibrata, abbiamo sulla stessa area un progetto per il Masterplan che si chiama Innovation Valley, abbiamo messo su insieme allo zooprofilattico e alla Università un ragionamento per mettere sulla direttrice il capoluogo costa tutta una serie di servizi con un potenziamento della rete ferroviaria come se fosse una metropolitana di superficie e in più stiamo lavorando ovviamente sulla viabilità preferendo la viabilità che collega centri di attrazioni a partire ovviamente dalla città capoluogo. E poi il ragionamento del futuro sarà non soltanto quello ovviamente di far strade, di sistemare edifici scolastici ma anche quello di mettere insieme tutti gli enti e di aprire un tavolo di confronto con la Regione per il nuovo assetto istituzionale di questa Regione. Teramo ha delle peculiarità, può fare la sua parte, l'ente di area vasta se sarà ben utilizzato dai sindaci dei comuni, sarà l'ente dove si troveranno le soluzioni e soprattutto si difenderà al meglio il territorio Teramano. E parliamo ora di Ponte del Cielo, la discussione è particolarmente aperta a Pescara, ci sono i pro e ci sono i contro e chi è contro l'opera? Tra gli altri il centrodestra, in particolare Forza Italia, come spiega in questa intervista l'ex assessore comunale, Marcello Antonelli. Marcello Antonelli, Ponte del Cielo, il centrodestra era e resta contrario ma in queste ore state pensando anche a qualcosa di diverso, qualche atto maggiormente significativo, di cosa si tratta? Noi abbiamo evidenziato una nota che proprio oggi abbiamo trasmesso agli uffici comunali competenti, nonché all'Agenzia del Demanio, alla Direzione Marittima, alla Sovrintendenza dei Beni Architettonici e anche all'Agenzia delle Dogane, in cui segnaliamo una serie di vizi che questo progetto ha rispetto al piano demaniale comunale. Sostanzialmente il progetto è in contrasto palese e stridente con almeno cinque commi del nostro piano demaniale comunale. Pertanto chiediamo a questi enti in sede di conferenze di servizi di sottolineare questi aspetti e bloccare il progetto che è confliggente anche con quella linea che ispirò il maestro Cascella quando realizzò la nave famosa, omonima nave, chiedendo l'eliminazione della balaustra proprio perché voleva che ci fosse un rapporto diretto tra la nave e il mare. Il Ponte del Cielo è confliggente con questa impostazione ed è un altro vizio enorme di cui la sovrintendenza soprattutto credo dovrà occuparsi nelle sedi opportune. Un'azione credo assolutamente dovuta da parte nostra proprio perché non possiamo immaginare che la nostra riviera venga completamente snaturata rispetto a quelli che erano gli obiettivi immaginati 15 anni fa. Il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi e l'assessore comunale ai lavori pubblici Giorgio Di Giovan Giacomo hanno illustrato i lavori di ristrutturazione di Corso San Giorgio e del Centro Storico lavori che partiranno il prossimo 19 ottobre. Iniziamo con questi lavori iniziamo con un po' di cautela dobbiamo capire bene quali sono i sottoservizi perché l'obiettivo è poi che per il 30 di novembre noi ci vogliamo e ci dobbiamo e ci vogliamo fermare e fare la sosta natalizia per dare la possibilità a tutti quanti i commercianti e i cittadini di godersi le feste di Natale però nel frattempo faremo anche tutta un'altra serie di lavori collaterali che riguarderanno la circonvallazione Ragusa perché poi dovremo pensare anche che quando in mano a mano che il cantiere andrà avanti l'autobus e i vierelli e le macchine probabilmente non potranno passare più diciamo ci sarà la doppia corsia questa volta non una corsia unica per i pedoni non ci sarà nessun problema sarà sempre garantito il passaggio dei pedoni nel senso che si lavorerà prima sulla parte centrale poi terminata la parte centrale si andrà sulle ali e quindi tra l'altro i lavori sulle ali faranno anche i lavori notturni e in giorni in cui le attività sono chiuse nel senso che l'impresa ci ha garantito che diciamo rompe e ricostruisce nello stesso tempo anche se a tratti questo diciamo garantirà comunque la possibilità di fruire delle attività commerciali sempre abbiamo c'è stato un incontro con le associazioni di categorie c'è stato un incontro con i commercianti stasera ce n'è un altro in modo da come dire condividere questo percorso il 19 si farà impiantati in cantiere inizieranno poi tutta una serie di interventi ci sarà anche qualche piccola modifica per quanto riguarda il traffico in centro storico ma davvero limitate al tempo dell'attività del cantiere saremo davvero attenti e molto sensibili a tutte quelle che sono le richieste le esigenze della parte dei commercianti e cittadini il 17 18 ottobre a Pescara ci sarà l'appuntamento con Green Factor l'ambiente giusto per l'alternativa previste importanti presenze come quelle dell'ex governatore della Puglia Nichi Vendola Tommaso Di Febo coordinatore regionale di SEL vi presentate questa importante iniziativa che si terrà il 18 ottobre Green Factor di cosa si tratta in concreto Green Factor è un'iniziativa organizzata da Sinistra Ecologia e Libertà Nazionale sulla scia anche di Human Factor che è stato fatto a gennaio a Milano e questa si occuperà principalmente dei temi ambientali in Abruzzo sapete bene che noi stiamo conducendo una battaglia enorme enorme per quanto riguarda il discorso della battaglia contro le trivellazioni e soprattutto per l'istituzione del parco della Costa Teatina Di Febo per quanto riguarda questa manifestazione vogliamo parlare anche delle presenze che ci saranno e come si svolgerà in queste due giorni il 17 ci saranno i tavoli tematici in cui si parlerà delle battaglie contro le trivelle si parlerà del Green New Deal si parlerà anche della questione dei parchi e delle aree protette si parlerà dei cambiamenti climatici si parlerà di tanti temi legati all'ambiente e di come creare attraverso l'ecologia un nuovo modello di sviluppo sostenibile non solo per l'Abruzzo ma per l'Italia e ci saranno ovviamente oltre agli ambientalisti anche molti amministratori impegnati nei propri comuni su queste tematiche e ovviamente poi il 18 ci sarà Nicola Fratoianni Nichi Vendola Stefano Fassina e tanti altri esponenti politici e ambientali l'amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi e la commissione Pari Opportunità hanno organizzato un convegno dal titolo Il lavoro che umilia incontro a tutela delle donne che subiscono molestie sul luogo di lavoro Affrontare il crescente fenomeno delle molestie delle violenze e dei ricatti contro le donne sul luogo di lavoro è la finalità dell'iniziativa messa in campo dal comune di Roseto e dalla commissione Pari Opportunità attraverso il convegno denominato Il lavoro che umilia incontro finalizzato a far conoscere il ruolo della consigliera di parità figura nata da oltre dieci anni ma ancora a molti sconosciuta per rompere il silenzio per aiutare a denunciare C'è anche lo sfruttamento c'è il lavoro nero e poi la condizione femminile che è comunque sempre sottoretribuita nelle migliori delle condizioni quindi tutto questo però c'è una tutela tutto questo ma tutto questo le donne non lo sanno non conoscono per esempio la figura della consigliera di parità è una figura istituita già nel 2000 2001 non ricordo ma che comunque aiuta le donne a conoscere i propri diritti ha addirittura il potere di convocare il datore di lavoro per conciliare la situazione quindi le donne noi donne non sappiamo non conosciamo tutto quanto questo avremo anche la presenza importante della dottoressa Pietro Paolo che è giudice del lavoro del Tribunale di Teramo che ci porterà appunto ci farà conoscere i casi concreti poi nel corso di questo convegno ci sarà anche la proiezione di un corto che riguarderà appunto le donne la condizione femminile sarà presente la Fenice che è il centro antiviolenza di Teramo che sta per aprire anche due sportelli sulla costa perché appunto le donne non sanno neanche di questo centro antiviolenza quindi tutto questo convegno ha come finalità quello di portare le donne a conoscenza di situazioni che possono risolvere i loro problemi quindi avvicinare le donne alle istituzioni o comunque a queste organizzazioni che hanno proprio questo precipuo compito Ed ora apriamo la pagina sportiva e parliamo subito di Serie B e di Pescara ripresa degli allenamenti oggi per i Biancazzurri dopo la sconfitta di Ascoli lavoro a parte per il difensore Zampano prosegue il percorso personalizzato l'attaccante Marco Sansovini ancora fermi i difensori Bunozza e Mignanelli prima della seduta di allenamento all'appoggio degli Olivi ha parlato il tecnico Massimo Oddo che è tornato chiaramente sulla sconfitta di Ascoli cercando di dare delle motivazioni a mente fredda e poi è intervenuto anche sul presunto caso Cocco si parla di caso proprio perché Cocco non ha ancora trovato la via del gol quindi sono segnali in cui la squadra deve capire aspetta un attimo stiamo rischiando un attimino abbassiamo un po' il baricentro recuperiamo le energie siamo più compatti dietro non ci abbiamo spazio e quindi vabbè l'Ascoli ha creato le difficoltà così in questo modo noi abbiamo sofferto un attimino la fisicità dei giocatori davanti e abbiamo sofferto questo tipo di gioco indubbiamente c'è un fatto indiscutibile che Cocco fa giocare bene il Pescara cioè Cocco entra in tutte le azioni del Pescara voi andate a vedere non è che mi sto inventando le cose si vedono le immagini il gol di domenica e viene da Cocco cioè le azioni pericolose che creiamo davanti con l'esposizione cioè noi ogni volta che un centrocampista un trequartista un difensore alza la testa e guarda in avanti il primo punto di riferimento è Cocco quello che sa venire incontro proteggere la palla e scaricare è Cocco non sto dicendo che siamo davanti al miglior Cocco non sto dicendo quello sicuramente lui lo sa e noi sappiamo che può fare molto ma molto di più deve ritrovare un po' di serenità deve io gli ho detto non pensare al gol ma Campagnaro sta bene abile e arruolato e credo si candida per una maglia di tolare assolutamente sì domenica non l'ho fatto giocare ad Ascoli perché perché indubbiamente Zupali c'è forna sé stavano facendo benissimo ho fatto una grossa partita col Cagliari quindi non me la sono sentita di cambiare ho continuato a dar fiducia a questi due ma io credo che insomma Campagnaro ci possa dare una una grossa mano ed ora parliamo di Virtus Lanciano una buona notizia quest'oggi perché nel corso della seduta di allenamento si è aggregato al gruppo l'attaccante Antonio Piccolo che ha superato dunque del tutto i problemi legati a quella distrazione muscolare che aveva riportato nel corso della gara del Braglia di Modena lavoro a parte per l'attaccante Padovan che dovrà sottoporsi ad altri accertamenti per valutare l'entità del suo infortunio e lavoro a parte anche per il difensore Amenta vittima di un affaticamento muscolare a Lanciano il problema è quello del gol una qualcerta sterilità offensiva per l'undici rosso-nero di questo hanno parlato dopo la sconfitta di Bari il tecnico d'Aversa e il centrocampista Zé Duardo c'è stato un momento nel primo tempo cinque minuti dove si siamo un po' sbilanciati dove abbiamo concesso un po' di spazi e dieci minuti del secondo tempo per il resto penso che è una partita abbastanza equilibrata dove è stata decisa da un giocatore di una qualità superiore dove ha messo una palla sotto l'incrocio però sotto l'aspetto della prestazione non c'è da rimproverare nulla i miei ragazzi abbiamo intrapreso interpretato la partita in una fase difensiva in una maniera in fase offensiva in un'altra ripeto penso che considerando il valore dell'avversario abbiamo fatto un'ottima gara una buona gara perlomeno e peccato per il risultato finale c'è solo da migliorare perché comunque il fatto che si può fare un'ottima prestazione e si porta a casa zero punti perché non si fa gol c'è solo da migliorare questo aspetto sempre quando prendiamo gol c'è quel momento di tristezza dentro la partita però secondo me abbiamo fatto una buona prestazione manca solo gol però penso che in settimana abbiamo tempo per lavorare per sistemare poca cosa per arrivare il gol nella partita arriviamo un po' la stanchese della partita poi abbiamo ripreso bene nel secondo tempo e purtroppo non sono riusciti ad arrivare al risultato giornata di giudice sportivo per il campionato di serie B il giudice affermato per tre turni Moscati del Livorno per due turni Biraschi dell'Avellino e De Bagua del Como che dunque sarà costretto a saltare il match di sabato alle Biondi tra Virtus Lanciano e appunto il Como una giornata di squalifica per Da Costa e Signori del Novara Ricci del Crotone e Gabionetta della Salernitana e ora parliamo di Lega Pro e parliamo di Teramo è una giornata questa di vigilia perché domani alle 15 al Bonolis si giocherà l'incontro di recupero della seconda di campionato contro il Pisa di Rino Gattuso a grandi linee Vivarini il tecnico Teramano dovrebbe confermare l'undici che ha superato la Lupa Roma domenica scorsa per 3 a 0 dal primo minuto ci dovrebbe essere ancora spazio per Mirko Petrella che era subentrato nel secondo tempo con la Lupa Roma ed era stato decisivo con una doppietta al suo fianco Moreo anche lui in gol con la Lupa Roma la conferenza di presentazione di Vivarini quest'oggi prima della seduta di rifinitura io sono sempre abituato a cambiare poco quando si vince l'ho fatto la prima partita perché comunque era la prima partita avevo delle esigenze importanti nel conoscere un pochettino i giocatori che avevo a disposizione poi sicuramente non si era ancora a posto sotto l'aspetto fisico quindi era una necessità perché per me bisogna dare continuità chi è che fa bene in campo e poi c'è bisogno che capiscano che devono far bene per cercare di rimanere lì in campo insomma quindi è una cosa importante quindi vediamo un pochettino come arriviamo a domani in queste prime partite di cazzo di Pisa cosa ti ha colpito in positivo o in negativo è una squadra che tatticamente sta molto bene in campo a differenza dell'anno scorso che magari avevano dei giocatori un po' più navigati soprattutto a centro campo in questo momento qua è una squadra sempre molto compatta riescono sempre ad aggredire molto la palla rispecchia un po' il carattere dell'allenatore quindi ha fatto punti proprio in questo modo quindi sarà una partita difficile Gattuso rimostra il fatto che lui abbia diciamo voluto allenare il Pisa quest'anno gli dà merito perché praticamente secondo me si deve fare esperienza si deve curare tanti problemi che in ogni anno sono diversi quindi nel momento in cui hai esperienza nel momento in cui hai fatto gavetta sei sicuramente pronto per poi presentarti magari in piazze anche più importanti è chiaro che in questo momento qua è difficile non dare continuità a Mirko io da lui mi aspetto però una crescita soprattutto sotto l'aspetto della personalità della della rabbia della voglia di lavorare per la squadra e di dare e di dare un input a tutti bisogna vincere bisogna fare bene in campo direzione di gara affidata a Mancini di Fermo a proposito di designazioni arbitrali si conoscono anche gli arbitri di domenica prossima sempre per la Lega Pro Girone B Maceratese Teramo è affidata a Marco Piccinini di Forlì mentre tutto cuoio l'Aquila sarà diretta da Francesco Catona della sezione di Reggio Calabria e poi il giudice sportivo ha squalificato per una giornata il difensore Aquilano Miles Anderson e ora parliamo di l'Aquila sì ma di Rugby con l'esordio sfortunato per la squadra del capologo d'Abruzzo che è stata sconfitta sul campo del forte Viadana L'Aquila Rugby scende in campo a Viadana per la prima di campionato allo Zaffanella i ragazzi di Mercier mettono subito in campo grinta e voglia di giocare l'estremo nero-verde Bonifazi tuttavia non capitalizza e due calci di punizione ottenuti nei primi minuti di gioco e Ian Mechile invece a centrare i pali portando in avanti i padroni di casa al nono minuto e allungando al ventesimo passano pochi minuti e i nero-verdi riescono a marcare Alessio Mattoccia schiaccia in meta e Bonifazi stavolta non sbaglia l'Aquila si porta in vantaggio per 6 a 7 ci pensa Mechile e dalla Piazzola a riportare il Viadana in avanti mentre sul finire della prima frazione di gioco è Melegare e marcare meta per i gialloneri 16 a 7 il parziale Nella ripresa l'Aquila Rugby scompare il Viadana di Laga la seconda meta dei Lombardi favoriti dal giallo rimediato dal nero-verde Boccardo arriva al 48esimo Mischia a 5 metri in attacco per il Viadana la terza cento Romon Frino si stacca e segna la terza meta del Viadana è ancora una volta frutto del lavoro degli avanti allenati dall'ex nero-verde Luiz Sgaboa Emanuini a segnare al 54esimo la meta del bonus arriva al 64esimo con Lombardo nel finale i gialloneri dilagano risultato Viadana 47 l'Aquila 7 E questo servizio è l'opportunità di ricordare l'appuntamento di domani sera alle ore 20 e 30 con la trasmissione curata dalla redazione Aquilana e condotta da Fabrizio Zenadocchio una trasmissione interamente dedicata al rugby dunque appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati domani sera alle ore 20 e 30 e ora chiudiamo con un ultimo servizio di atletica leggera il Veneto conquista a Sulmona i campionati italiani della categoria cadetti per l'Abruzzo tre medaglie d'oro e una d'argento Si è imposto il Veneto nei campionati italiani di atletica leggera cadetti e cadette che si sono svolti sulla pista del complesso sportivo dell'incoronata a Sulmona al secondo posto la Lombardia e al terzo la Toscana all'undicesimo l'Abruzzo che ha conquistato tre medaglie d'oro ed una d'argento nel salto triplo loro è andato a Salvatore Angelozzi nei 300 ostacoli a Leonardo Pucca e nei 1200 si è ip a Manuel Di Primio medaglia d'argento invece nei 300 ostacoli a Greta Zuccarini questa è una delle manifestazioni più divertenti dell'anno un po' perché vediamo tanti ragazzi che sognano con l'atletica e che già si sono innamorati dell'atletica un po' perché all'interno del campionato italiano individuale c'è anche la gara squadre per regioni e questo crea un'atmosfera che spesso in atletica non vediamo essendo sport individuale da qui passano e sono passati i campioni del futuro quello giovanile ha dato sintomi di buona salute già da quest'estate sia con gli allievi che con gli junior quindi noi siamo molto contenti e adesso questi sono ancora più piccoli sono molto numerosi abbiamo già visto qualcuno di molto bello ma qua è importante fare esperienza quindi per questi ragazzi che sono effettivamente la prima esperienza nazionale è veramente una grande cosa è qui che cominciano e qui che probabilmente pensano al futuro con un po' più di impegno l'atletica è uno sport in cui i valori hanno grande importanza e rappresentano veramente una scuola di vita l'augurio che li posso fare è che continuino a divertirsi ad imparare e ad avere attraverso appunto l'atletica individuare la strada giusta per la vita qualcuno diventerà campione qualcuno no ma la cosa importante è che da questa esperienza ne traggono momenti che li serviranno per crescere possiamo dire che questa manifestazione ha portato a Sulmona oltre 2000 persone c'è stato un movimento incredibile a livello extrasportivo è tutto per questa edizione del TG6 TG6 che torna domani con la prima edizione delle ore 14 grazie per l'attenzione e buonanotte grazie per l'attenzione